Buongiorno, è la vigilia di Empoli Juventus, partita davvero complicata, complicatissima considerando come la Juventus arrivi a questo appuntamento con diverse defezioni a livello proprio di infortuni e considerando anche come banalmente giocare in Champions League porti sempre a profondere grandi energie fisiche e mentali, non è semplice recuperare però non deve essere nemmeno un alibi, la Juve comunque 11 riuscirà a portarli ad Empoli non era scontato considerando come negli ultimi giorni ci fossero state due o tre brutte notizie al giorno e quindi gli uomini di Allegri hanno tutte le carte in regola per tornare a Torino con l'intera posta in palio d'altra parte non ci sono scuse, nel senso che la Juve se vuole centrare l'obiettivo quarto posto deve aumentare il ritmo, deve monitorare anche ciò che combina parallelamente in primis l'Atalanta però questa partita è molto importante banalmente per i tre punti in palio che potrebbero far riaccendere la macchina bianconera dopo i due pareggi di fila maturati in campionato con lo stesso punteggio contro Atalanta e Torino però è anche una partita dove se fai prestazione riesci anche a sopprire alle lacune d'organico legate appunto ai KO recenti che hanno purtroppo catturato le copertine dei media in generale però non voglio parlarvi di Empoli-Juventus perché avremo modo di farlo magari nel tardo pomeriggio di oggi buttando giù una probabile formazione e soprattutto ne parleremo domani nel match day voglio affrontare con voi il tema rinnovi perché abbiamo sempre detto che post CDA post CDA di febbraio la Juventus avrebbe iniziato ad avviare la macchina organizzatrice per affrontare le questioni one to one quindi Paolo Di Bala, Juan Quadrado, Federico Berardeschi, Mattia Desciglio e Mattia Perin sono questi giocatori che vanno in scadenza giugno ricordo nuovamente che Pinsoglio non va in scadenza intanto me lo chiedete ma Pinsoglio non va in scadenza perché la scorsa estate ha firmato un rinnovo biennale quindi Pinsoglio va in scadenza il 30 giugno 2023 ora il caso più importante è sicuramente quello legato a Di Bala c'è la netta sensazione che la Juventus si stia muovendo per convocare il suo agente Organtun che in questo momento si trova in Argentina però evidentemente ora è pronto ad entrare a Torino è pronto ad entrare a Torino per fare sul serio perché se passati da quel quadro di ottobre con un accordo che era stato trovato per 8 milioni più 2 ora vedremo quali saranno le mosse della Juventus se magari verrà confermata la stessa cifra ma riformulata in maniera differente tra parte fissa e bonus non lo so sapete che a me non piace parlare di quadri che non esistono perché al momento stiamo ragionando in maniera ipotetica e soprattutto nel mondo del giornalismo non bisognerebbe mai farlo quando Organtun tornerà a Torino è per me una questione ormai di giorni e incontrerà la dirigenza capiremo quindi concretamente le mosse nuove della Juventus sul fronte di Bala che al tempo stesso mi sembra che il ragazzo abbia dato l'assoluta priorità proprio ai bianconeri vuoi perché a ottobre aveva trovato un accordo vuoi perché se avesse già voluto trovare l'intesa con un'altra società in regime di svincolo avrebbe potuto già firmare un precontratto con un'altra società e ciò mi risulta che non l'abbia fatto perché evidentemente evidentemente la sua priorità era e resta la Juventus quindi di Bala è il caso più importante e anche il caso a livello progettuale è quello più interessante credo che ora però sia pronta la chiamata della Juventus atta a convocare Organtun alla continassa e lì poi capiremo cosa emergerà da questo incontro fermo restando che la delusione di Paolo quella famosa esternata, quello sguardo rivolto alla tribuna fosse legata al fatto che a ottobre era stato trovato in intesa e poi man mano questa firma non fosse arrivata non sia arrivata ma anche per colpa poi del fatto che Organtun sia diventato agente il 26 gennaio ve l'ho detto tante volte Organtun è diventato agente di conosciuto e scritto al CONI il 26 gennaio traete voi le vostre conclusioni per quadrato dubbi non ce ne sono credo che l'unica cosa da definire sia la scarenza se fare un biennale più uno, un biennale puro vedremo però anche i segnali che ho ricevuto ieri sera sono altamente positivi io per questi giocatori di 33, 34, 35 anni sono sempre un po' spaventato dall'idea di andare oltre il contratto annuale oltre il rinnovo annuale perché il declino può essere non sto parlando solamente di quadrato facendo un quadro generale il declino può essere dietro l'angolo puoi sbagliare qualche mese puoi sederti puoi sederti nel senso che tanto sai che hai un biennale sai che magari ti chiami quadrato non dico che volutamente poi abbassi il rendimento anzi quadrato è uno dei giocatori più forti della Juve è stato uno dei più decisivi della storia moderna recente dei bianconeri però secondo me quando arrivi con l'età c'è poco pepe dietro poca competitività poca concorrenza inevitabilmente puoi anche staccare un pochettino però sicuramente tenersi quadrato è cosa buona e giusta perché complessivamente secondo me questo rinnovo è dei più meritati gli altri sono tutti da impostare De Sciglio, Benardeschi, Perin vedremo se Perin avrà ancora voglia di fare il secondo vedremo quali saranno concretamente le richieste di Bernardeschi ad oggi a me non risulta che la Juventus sia entrata nei dettagli ancora a livello di soldi Bernardeschi è un giocatore che Radio Mercato dice che guadagna attualmente sui 4 milioni netti quindi credo che quei soldi difficilmente la Juventus li proporrà perché se analizziamo poi il percorso complessivo di Bernardeschi a Torino non è un giocatore da 4 milioni netti De Sciglio sta facendo Benino io sono se dico sempre la gente magari ride che in questa stagione il mio terzino sinistro della Juve sia De Sciglio e ciò sottolinea come la Juventus là debba intervenire debba andare a prendere un upgrade di Alexandro magari tenerti De Sciglio come alternativa io su De Sciglio sono sempre spaventato la componente atletica De Sciglio è un giocatore che quando gioca fa sempre il suo ma da momento all'altro può prendersi il classico mesetto di stop che poi ti fa saltare 4-5 partite si crea un buco importante nei mesi decisivi della stagione quindi anche su De Sciglio io sarei un po' più cauto però mi accorgo che tra la stima di Max Allegri la professionalità del ragazzo magari la sua voglia di rimanere e di abbassarsi un pochettino l'ingaggio ci potrebbero essere assolutamente i presupposti per ottenere il rinnovo però ragazzi diciamo che dalle chiacchiere che abbiamo fatto nei giorni scorsi con la Juventus ve lo garantisco sta iniziando il suo iter per convocare tutti questi agenti il caso più importante è quello di Dybala e secondo me a partire dalla prossima settimana inizieremo ad avere notizie più concrete dai ragazzi fatemi sapere anzi fatemi un vostro pronostico chi rinnoverà chi no qua sotto pioggia di commenti se attivate Juventus in generale se apprezzate questo canale iscrivetevi mettete like ai miei contenuti e vi ringrazio come sempre vi mando un grosso abbraccio grazie a tutti